Musica Saranno 48 ore di freddo e neve, fiocchi in collina al centro-sud, rischio anche Roma, tanta neve in Appennino, un nucleo di era fredda sul nord-est sta colpendo l'Emilia-Romagna e le regioni centrali, mentre sul resto del centro-sud Sicilia imperverserà il maltempo. Almeno fino a domenica il tempo sarà caratterizzato soprattutto da pioggia e neve, che in più occasioni cadrà fino a quote molto basse. I venti di burrasca continuano intanto a sferzare le coste dello sud e le isole maggiori. Anche oggi raffichi oltre i 100 km orari, mari agitati con onde oltre i 2-3 metri e il rischio di mareggiate.